Grazie, grazie tantissimo, sono molto contenta perché questo personaggio Dona Maria, come ho già detto, l'ho amato nel profondo e quindi, insomma, si è finito, penso, ho avuto una del film e che, insomma, comunque, penso, abbiamo avuto un bellissimo film, grazie Marco e Antonio, che, insomma, che mi hanno dato, così, la possibilità di fare questo bellissimo personaggio, di mettori, grazie alla relazione di Ciac, grazie a chi mi ha votato, ai giornalisti, perché mi guardi così? Perché sono ammirata, a volte posso tacere io, posso avere incredibile, Sì, una volta contenta, sì, ho detto qui, no, ammirata, non ho avuto vita, è diverso, c'è una passata correzza, allora, complimenti a te, vi ho ringraziato a tutti, devi tornare a lavorare già stamoggi, adesso? O rimani? O rimani? O rimani, allora, Claudia Gerini, miglioratrice e non protagonista per la morte della vita.